Si chiama Remington Williams, è una bellissima modella che da poco è diventata come tale molto fotografata a New York, ma soprattutto alla New York Fashion Week, la settimana dedicata alla moda che si celebra ogni volta ogni anno a New York, la grande mela di Big Apple. E che fino a dieci giorni fa questa ragazza faceva la lavapiatti da Chipotle, una catena di ristoranti americana, e adesso invece è diventata una modella più che affermata nel panorama americano. La favolosa ragazza ha, per così dire, dato inizio a quella che sarà per lei come una vera e propria favola a lieto fine, meno di un mese fa, quando proprio è la stessa, capelli rossi, occhi con l'oceano, un fisico piacevole ma anche molto intrigante, lavava le stoviglie per questa catena di ristoranti e poi all'improvviso ha deciso di buttarsi, di mettersi in gioco e si è ritrovata a New York a firmare un contratto con la DNA Models, una agenzia davvero straordinaria, capace veramente di tante tantissime cose. E in me che non si dica, la ragazza che possiamo considerare tra virgolette come impacciata, ecco che è diventata una modella a tutti gli effetti. Capacità, bellezza, sensualità, fascino, grinta da vendere, sono questi gli ingredienti che fanno d'accollante ad una ragazza che può essere considerata come una ragazza davvero di grande, grande, grandissimo spessore. Bene, complimenti a lei, il video termina qua, un salutone e a presto.